Buongiorno a tutti, allora magliettina del gigione della settimana col bimbo e ci prepariamo a una lunga notte di schedine e bollettine partendo però dai risultati della Champions perché si sono giocate le sei partite di Champions, le partite di andata che daranno qualificheranno le ultime sei squadre alla prossima Champions League mentre chi perde si dovrà contentare dell'Europa League o addirittura della Conference vedremo dove andranno. Comunque vediamo un po' le gare di martedì e di ieri sera come sono andate partendo dalle partite di martedì dove il Modo Glint ha vinto di misura 1-0 sulla Dinamo Zagabria e quindi lascia ancora tutto 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 aperto per la gara di ritorno. Il Copenhagen ha vinto anche lui di misura ma 2-1 in casa contro il Trabziano Sport quindi ancora tutto 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 in divenire perché il Trabziano Sport, il mitico Trabziano Sport, l'Inter ci giocò tanti tanti, mamma mia quanto devo andare indietro trent'anni, circa trent'anni fa. Trabziano Sport, l'Inter 1-0, primo turno di Coppa UEFA ma al ritorno l'Inter vinse 2-0 e passò al turno. Poi proseguiamo con i Rangers. I Rangers di Glasgow hanno fatto 2-2 in casa col PSV in una partita scoppiettante in seguimento. Stava vincendo 2-1 il Rangers di Glasgow e poi il PSV ha pareggiato. Un 2-2 che naturalmente favorisce gli olandesi però non diamo nulla per scontato. Io resto dell'idea che il PSV passerà al turno per un semplice motivo solitamente le squadre scozzesi fuori casa perdono un 30% del loro potenziale mentre invece in casa col tifo eccetera eccetera il loro potenziale aumenta molto di più e riescono anche in imprese epiche. Fuori casa diciamo che scalchignano un attimino però il PSV è una squadra matta, una squadra che ne combina di ogni quindi tutto può ancora succedere. Direi che però il PSV resta favorito. Qualabac e Plitzen fanno 0-0 e nella gara di ritorno può succedere veramente di tutto. Non diamo per scontato il passaggio del turno del Plitzen perché comunque il Quarabac è una squadra che è abituata a giocare le coppe quindi potrebbe, potrebbe anche riuscire nell'impresa di andare a pareggiare col Plitzen e poi supplementare o rigori lì può succedere di tutto. Il Maccabi ha e fa pareggia 2-1 con 2-2, scusate, pareggia 2-1, pareggia 2-2 con la Stella Rossa anche qui il risultato un po' altalenante eccetera eccetera però alla fine è un 2-2 che sicuramente favorisce la squadra serba però signori miei adesso che ho il fatto perché una volta con la Rebecca Regola pareggiare in casa 2-2 avevi già un piede e mezzo fuori dalla competizione perché dovevi andare a vincere in trasferta perché eri costretto per andare supplementare a fare minimo 2-2 se facevi 3-3 passavi tu però andare a segnare 2 gol in trasferta non era mai semplice quindi il pareggio se fai 0-0 vai a giocartela va bene qualsiasi pareggio poi allora l'ibidine bastava un 1-1 e purtroppo ne sappiamo qualcosa mentre adesso col fatto che conta il risultato quindi vinci 65-64 e perdi 1-0 fuori casa si va ai supplementari è una battuta per farvi capire mentre prima magari vincivi 3-2 andavi in trasferta perdevi 2-1 1-0 andavi a casa adesso no quindi se fai 2-2 in casa poi fai 0-0 in trasferta si va ai supplementari quindi stella rossa Maccabi Haifas è una partita interessante anche qui la stella rossa è favorita al prison è favorito al PSV è favorito però non è un passaggio del turno scontato invece un discorso diverso ma si sapeva già a priori il Benfica andato a vincere in casa nella Dinamo Kiev 2-0 ha già ipotecato il passaggio del turno al 99,9% non vedo una Dinamo Kiev che può andare a vincere 2-0 o 3-1 in casa del Benfica è vero che il pallone rotondo tutto può accadere però la vedo una cosa molto improbabile ragazzoli staremo a vedere cosa succederà detto questo io vi saluto vi ringrazio e adesso vado a farvi il video che sono qua delle schedine invece dell'Europa League con le gare che si giocheranno oggi a partire dalle ore 18 ciao